Siamo già sul pezzo, oggi abbiamo una cosina molto carina da fare e beh devo dire ci divertiremo perché tireremo fuori un po' di cose, poi alla fine sarà io che intervisto loro e non loro che intervistano me, sicuro. No, 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 no. La luce, la luce, la luce. Bisogna una nuova, magari. Mi devo mettere le bustie. No, ma devo fare una domanda scontata, però ce la dì, no? Come si arriva a vincere con la stella di scelta? Mi dice l'è? Mi dice l'è? A preghere. Prego. E di raccontare una storia. Alla fine è questa. C'è come quando tu fai un disco, no? C'è gente che per tutta la propria carriera non ne dà neanche una. E' un bolognese. 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 Cioè, già queste dobbiamo eliminarle. Facciamo con le mani, dai. Guarda, sono indignato che questo focacciaio ci abbia dato un pari. Sì, veramente. Possiamo fare queste pizze. Tu non ce l'hai? Super raffinato. Allora. Fedez e signora non hanno il topper. Cioè, questa è veramente incredibile. Scandalo. Scandalo. Magari ce l'ho e non lo so. E quando vai a letto, in un letto dove c'è il topper, ok, inserito, dormi completamente in un modo diverso. Cioè, dormi. Cioè, dormi. Però mi fa strano che Fedez e signora non abbiano il topper nel letto. Non ci credo. No, ho visto TikTok, Instagram, YouTube. Stai... No. TikTok ti piace un casino perché faccio delle cose che... Fai un sacco di TikTok. Sì. Però trovo una cosa carina perché mi fa diventare un po' un ragazzino. La grande spazio è la creatività. Una creatività fast food. No, scusate, riprendi un altro. E poi per me è un momento di grande divertimento. No, mi sono veramente diventato molto. Si sono davvero molto carini. Grazie di avervi ospitato nel vostro super programma. E... Ma è una energia che c'hai quasi... Cioè, hai fatto più la puntata. No. No. Poi alla fine sarà... Io che intervisto loro e non loro che intervistano me. Sicuro. Grazie mille allo chef Bruno Barbieri per essere stato qui. Noi ci vediamo presto qui con Luis e Federico e Martina. Grazie. Ciao. Ciao. E' super. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bello, bello. Grazie. Mi sono divertito con questo. Siete veramente... Ah, sai, proprio che sono... Scusate. Mi sono... Siamo sempre in bolla qui a Muschio e Cervano, so... E qui Bologna sta conquistando Medicina... Mi stanno... Pieda Romagna sta prendendo... Anche questo tutto... Si sta allargando. Ciao a Finito tutto. Mi sono divertito moltissimo. Oh! Ho sentito. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.